Musica Oggi abbiamo presentato uno dei nostri tanti cartelloni, ormai siamo verso 6 cartelloni che significa mettere in scena 40-50 spettacoli differenti nel corso dell'anno. È una proposta artistica ricchissima, è probabilmente una delle proposte artistiche più ricche della regione Campania ma diceva il teatro pubblico più ricche del panorama nazionale. Non sempre la regione dà la nostra attenzione, nelle prossime settimane sarà necessario un intervento anche forte se vogliamo anche eclatante rispetto al quale dovremo chiedere a Caldoro, alla sua giunta, il rispetto che questo teatro merita perché i teatri che funzionano, i teatri che hanno pubblico, i teatri che hanno qualità, i teatri che non si fermano mentre il paese arretra, mentre Roma licenzia 200 orchestrali, mentre grandi teatri italiani chiudono ecco, il Carlo Gesualdo ha conquistato rispetto e quindi su questo la regione dovrà sicuramente ascoltarci. Il Red quest'anno è questo gioco divertente della mela rossa che vedrete sui manifesti da oggi in città e che è un po' la tentazione che noi offriamo al nostro pubblico. Red vuol dire risate e divertimento, è il nostro cartellone dedicato alla comicità, all'ironia che quest'anno non è più solo partenopea con i grandi classici, Salemme, Izzo, Bucci Rosso, Maire Rocco Papaleo Maire Antonio Albanese che arriva per la prima volta da Vellino con la sua carrellata di imitazioni e di personaggi è Salda Vinci in uno spettacolo scritto da Alessandro Siani Insomma, Red è la tentazione di divertirsi è il cartellone che genericamente richiama più di mille abbonati che da martedì potranno sottoscrivere l'abbonamento ad Avellino c'è una novità, quest'anno ci sarà il diritto di prelazione quindi ai vecchi abbonati consentiamo per i primi 15 giorni di conservare la propria poltrona e come ricordava c'è una importante novità dedicata ai ragazzi io voglio che questo teatro sia sempre di più il teatro dei giovani sia sempre di più il teatro accessibile a tutti e quindi c'è un abbonamento di galleria a 9 spettacoli al costo di 125 euro quindi è un prezzo bassissimo e c'è per tutti coloro che hanno fino a 30 anni di età la possibilità di avere il 30% di sconto su tutti i biglietti è un grande sforzo economico che il Carlo Gesualdo ha fatto con il teatro pubblico campano con Alfredo Balsamo mettendo insieme le sinergie per garantire prezzi bassi, qualità numero di spettacoli accresciuto e un'offerta culturale che ribadisco rende la città di Avellino protagonista in campo regionale dobbiamo essere orgogliosi del nostro teatro orgogliosi del grande sforzo che facciamo e che il Comune di Avellino sostiene e dobbiamo difendere le cose che in questa città funzionano perché il pubblico ama il Carlo Gesualdo siamo alla tredicesima stagione in 13 anni abbiamo conquistato devo dire migliaia e migliaia di spettatori ultimo dato che voglio sottolineare è che in soli 4 giorni abbiamo venduto 4.000 biglietti abbiamo aperto la biglietteria 4 giorni fa per i biglietti dei singoli spettacoli in 4 giorni abbiamo venduto 3.998 biglietti per la precisione questo vuol dire grandissima presenza ad Avellino, da tutta la regione campania vuol dire che il programma che abbiamo presentato piace, funziona e vi aspetta per un anno che sarà all'insegna del divertimento della grande musica, della poesia, della lirica, della danza, della tradizione Grazie a tutti